Chi sceglierà Nicolás tra Maria, Laura, Mercedes e Fabrizio? No, non ci credo, non ci credo! Ha scelto Mercedes! Grande Nicolás! Come mai Nicolás? Grazie! Perché sti due sono belli insieme perché alla fine a questo scemo li voglio bene. Oh, così vi piacete! Bravi! Bravi! Oh, che bello! Un momento! No, vabbè, ma che tenere!